Oggi Get Ready With Me parliamo di smaltimento e vi faccio vedere come ho realizzato questo make-up. Ciao! Nel video di oggi, anche se senza voce, facciamo un po' di prove dei prodotti in smaltimento. Ho pensato di fare questo video sia con i prodotti in smaltimento del progetto 21 in meno, che stiamo facendo su Instagram con Simona Mushroom Simu e un sacco di altra gente, però di aggiungerci anche altre cose che ho in smaltimento, che ho aggiunto nel tempo, nel corso dell'anno, anche se non è che ho finito granché del progetto 21 in meno, ma ne parleremo. Così vi faccio vedere un po' di prodotti, ne parliamo, perché avevo chiesto su Instagram se avreste preferito un video qui su YouTube, un post lì, mi avete risposto su Instagram, ma su Instagram non riesco a parlare abbastanza di questi prodotti e quindi adesso facciamo un mix, vediamo come fare. Comunque, ho già preparato la mia pelle con la skin care e adesso andiamo con i primer. Io ho questi due in smaltimento, che sono il Profilter di Fenty Beauty, questo mi piace tantissimo perché ha una consistenza molto cremosa, sierosa, è molto bello proprio da mettere sul viso. Mi si è rotto però l'applicatore, mi era successo anche con i fondi di Fenty, purtroppo hanno questo problema. Questo è soft matte, effetto soft matte. E ci aggiungo il Vitamol nuvola blu, che è sempre, me l'avete già visto usare, però questo è idratante, illuminante. Quindi, preparo la pelle in questa maniera qui. Ho finito, e vai, nel progetto smaltimento il primer opacizzante di Becca, che ho odiato. Per fortuna è finito, dopo non so quanto tempo, quindi adesso sto andando avanti a smaltire quello che mi era rimasto sul gruppone, diciamo. Come fondotinta, io ho in smaltimento due fondotinta. Uno è questo. Allora, in realtà sono due, sono sia il Medium Warm che il Light Warm di Neve Cosmetics, questi in stick, che non mi fanno impazzire onestamente. Sia il Soft Matte Foundation di Astra. Allora, questo qui è un fondotinta che, a parte che al momento è troppo chiaro, infatti adesso lo mixerò, vedrete come, con il Medium Warm di Neve. Non mi fa impazzire, perché mi risulta un po' troppo pesante sulla pelle, ha una consistenza che non mi piace moltissimo. Per scurirlo, uso, con una fantastica spatolina, un po' del Medium Warm di Neve. Io li faccio spesso, questi mischioni, un po' così. Quindi li metto insieme qui sul dorso della mano. E ci aggiungo anche un altro prodotto che è in smaltimento, che è questo qui. Il primer di Pure Beauty di Astra, che come primer non mi piace. Loro dicono che, vedete, è verde. Dovrebbe minimizzare i russori, ma in realtà questo fatto che è verde si perde totalmente quando lo si applica. Il pigmento verde non rimane. Però lo uso perché, appunto, siccome il fondosinta di neve è in stick ed è un po', ovviamente, un pochino duretto, mi piace fluidificarlo con questo. E in questo modo riesco a trovare il colore giusto, a mischiare tutti i prodotti in smaltimento che mi serve di finire. E così riesco ad applicare anche il prodotto in maniera giusta. Prendo una spugnetta e la bagno con il tonico che sto usando al momento, che è questo qui di Montalto, che è ottimo. Questa linea è ottima. Quindi l'ho bagnata e applico così il mio fondotinta. Il fondotinta Pure Beauty è un fondotinta che andrebbe steso con le mani. L'applicazione che funziona meglio è quella che lo tira un pochino. Siccome a me non piace applicare i prodotti con le mani, faccio la stessa cosa con la spugnetta. Quindi lo appoggio e lo tiro, lo spingo bene dentro la pelle, in modo che si uniformi bene e non mi faccia, non mi rimanga un pochino troppo in superficie. Quindi, come vedete, lo tiro un pochino. Spalmo bene su tutto il viso. Insisto dove ho più imperfezioni, dove c'è più da coprire. E così ottengo un risultato in realtà abbastanza naturale, però che mi piace. Mi spingo anche bene sul collo. Allora, vi dicevo che in realtà con il progetto smaltimento io sono un po' indietro. Non è andato benissimo quest'anno. Un po' perché mi sono truccata per tutta la prima parte dell'anno molto poco. Perché io quando sono in gravidanza, mi ero successo anche le altre volte, non mi riesco a truccare perché all'inizio mi danno fastidio tutti gli odori, poi non ho voglia, insomma è una cosa che non faccio. Intanto metto anche il correttore. Il correttore che ho in smaltimento è questo qui, One Drop Coverage di Catrice. Questo è simile al fondotinta, quello Liquid Coverage, che mi piace molto. Questo mi piace un po' meno. Devo fare così perché non prende niente con il dosatore e praticamente questo è finito. Dicevo, non mi sono truccata quasi per niente in gravidanza perché appunto mi danno fastidio gli odori, insomma non è proprio il periodo migliore che amo di più per truccarmi. E quindi già questo non avrebbe aiutato per lo smaltimento. In più mi sono resa conto di aver scelto dei prodotti veramente sbagliati. perché ho messo un sacco di questi blush minerali che adesso vedrete se ne usa talmente poco che metterne così tanti è impossibile smaltirli. Diciamo che la cosa che funziona in un progetto smaltimento è mettere sì dei prodotti che vuoi finire ma anche mettere una buona, un buon mix di prodotti facili da smaltire e di prodotti difficili da smaltire. Io invece ho sbagliato, ho messo tanti prodotti difficili per cui uno non li finisce mai, non è spronato a finirli, a continuare insomma a lavorare per lo smaltimento e quindi finisce che praticamente non li, cioè stanno lì e non sei neanche spronato appunto a utilizzarli. Quindi metto anche un goccino qui intorno al naso dove ho dei rossori perché sono raffreddata in questo periodo come si sente dalla voce e quindi ho bisogno di coprire, di un pochino maggiore coprenza ai lati del naso. Poi tampono bene la spugnetta, tolgo l'eccesso e continuo a fondere i prodotti con la pelle. Per farvi l'esempio di che cosa intendo per troppi prodotti dello stesso tipo e difficili da smaltire, io ho in smaltimento per il progetto due ciprie che sono la Fit Me, questa è colorata e la Veil Translucent di Hourglass. Allora questa è infinita, ve l'ho parlato anche su Instagram, è infinita, siccome io ne uso pochissima, questa la uso sul contorno occhi perché è molto leggera. Già è infinita di suo, in più ne usi pochissima, in più la metti solo sul contorno occhi, in pratica non finisce mai, sono due anni che ho in smaltimento e non ne vengo a capo. E idem la cipria Fit Me, allora io devo dire che mi si è molto normalizzata, lo dico sempre la pelle, non è secca però sicuramente non ha bisogno della stessa quantità di cipria che usavo prima. E quindi anche finire le ciprie è diventato molto difficile. Questa la Fit Me di Maybelline mi piace molto perché è abbastanza piallante, però non secca troppo, il colore è perfetto per me, io ho il 10 Fair Light, mi piace molto. In più, come se non bastasse per non farmi mancare niente, ho in smaltimento, non nel progetto, ma insomma lo voglio finire, anche questa qui che è la Radiant Fusion di Kiko, che io avevo comprato in una colorazione un po' scura per fare come una sorta di bronzing, diciamo, leggerissimo, per usarla ai lati del viso, così per dare un po' di profondità. Per cui anche questa è in smaltimento ed è, cioè, veramente non l'ho neanche intaccata, in finita, anche questa ci si mette tanto a finirla. Dopodiché, ho invece in smaltimento questo prodotto di Kiko, sempre nel progetto smaltimento questo, nel progetto Venturi in meno, uno stick della Tuscan Sunshine, che è stata una passata collezione di Kiko, essendo me abbastanza azzeccata, che è questo color terracotta, che io uso qui, ai lati del viso, che mi dà questo colore un po' rosato, un po' bronzer, un po' blush, un po' terra, che mi piace molto. Questo prodotto di Kiko mi piace tanto, purtroppo appunto era una limited, però vorrei provare, vorrei vedere un giorno, appena riesco, se gli stick, perché ho visto che Kiko adesso fa degli stick, altri stick di, prodotti in stick di contouring, volevo vedere se la formula è uguale, perché mi piacerebbe, insomma, sarebbe bello se questa formula fosse impermanente, non solo in limited. Intanto alleggerisco qui i bordi di questa sfumatura, in modo che non mi faccia una ghiaccia enorme. E passo ai blush, e come vi dicevo, ho in smaltimento 150 blush in polvere di neve. Sono quasi tutte limited edition. Oggi uso questa qui, facciamo, Swinging London. Questa collezione dedicata a Londra mi piaceva tantissimo, però è veramente vecchia, quindi per questo che vorrei un po' finire i prodotti. prendo un pennello Kabuki, faccio questo lavoro qui, e poi, per sicurezza, io scarico sempre un po' sulla mano, prima di mettere il blush, soprattutto questi qui, per esempio adesso ho scaricato troppo, però questi blush in polvere di neve cosmetics sono mega pigmentati, quindi bisogna fare molta attenzione. Per cui ecco, faccio sempre questo lavoro, che lo scarico, e poi applico. Per le sopracciglia ho in smaltimento diversi prodotti, io faccio l'errore di volerne mettere e comprare sempre troppi, e quindi ne ho sempre in abbondanza da smaltire. Inizio con la, questo si chiama Ultimate Brow Kit, mi pare, di Wet n Wild, che è questo trio con due polveri e una cera. La cera non la uso mai, perché non mi piace. Invece metto le polveri, inizio, diciamo, sempre la mia correzione delle sopracciglia con le polveri, per cui faccio così, faccio prima, diciamo, le linee che mi serve che siano più nette, dopodiché con il pennello un po' scarico, continuo a costruire il sopracciglio. Allora, a me piacciono le sopracciglia un po' bold, un po' belle visibili, non riesco a fare né, mi fa impazzire l'effetto troppo singolo ciglio, tipo laminazione o, insomma, ricostruzione. Per cui non mi piace quell'effetto lì, per cui non lo faccio mai e non sarei in grado di farlo. E quindi per me questo tipo di prodotto va più che bene. Come vedrete, sbaglio sempre, ma non c'è problema, adesso correggiamo tutto. Ho in smaltimento anche questo, che non mi piace, ho finito presto, questo è sempre della Tuscan Sunshine, un duo sopracciglia, ho finito la mina, che mi è piaciuta moltissimo, invece mi è rimasto sul gruppone questo affare, che come al solito non amo, però ha un colore abbastanza delicato da aiutarmi a riempire nelle parti in cui non voglio che sia troppo troppo visibile il lavoro che faccio. Questo per fortuna è arrivato agli sgoccioli, così lo finisco. Un altro prodotto di smaltimento per il progetto Venture in Meno è questo brow pot, questo è Neptune di Nabla, ed è un prodotto infinito, tra l'altro io non so mai come usarlo perché il colore mi sembra sia troppo grigio, e quindi ho trovato questa soluzione, ci intingo uno di questi spuli, di questi piccoli applicatori da mascara singolo, ce lo ficco dentro, e lo uso in pratica come gel fissante, in questo modo il colore non mi dà fastidio, ma riesco a utilizzare il prodotto, e mi sembra che di averci dato una bella botta, insomma, non mi dispiace, e in più mi pare che regga, tenga abbastanza, pettinate le sopracciglia, e gli dà quell'ultimo tocco di colore che a me piace. Altro prodotto infinito per quest'area che ho messo nel progetto smaltimento, vedete perché dico che ho sbagliato a mettere questi prodotti, è questo, questo anche era un doppio, un prodotto doppio per sopraccigliati, in un brand che neanche ricordo quale fosse, preso su Maki Beauty, ed è, mi è rimasto solo questa parte diciamo illuminante, una specie di stick color carne, e lo uso appunto per così alzare un pochino, per illuminare, allazzare, e fare un effetto un po' lifting sulle sopracciglia. Come prodotto occhi, sempre nel progetto 21 in meno, c'è il matitone di Kiko, questi sono gli Ultimate Eyeshadow, sono famosissimi, insomma, belli, ci sono da un sacco di tempo, questo è aperto da tanto, mi piace tanto, però appunto, siccome è un bel po' che è aperto, non vorrei che andasse a male, per ora è ancora bello cremosino, è questo marrone, è il numero 4, questo marrone intenso, un pochino shimmer, mi piace tantissimo, e poi dà proprio quell'effetto un po' sofisticato, un po' di di colore, di scuro, che va bene per definire un po' l'occhio, e basta, insomma, non ha bisogno di altro, va bene anche da solo, io per fissarlo leggermente, siccome non ho ombretti, nel progetto smaltimento, uso di nuovo le polveri del kit sopracciglia, sempre con lo stesso pennello, e gli do una leggera bottarella, proprio leggerissimo, giusto per fissarlo leggermente, non che ne abbia particolare bisogno, però preferisco sempre, insomma, mettere una polvere sopra, sempre per sfruttare il più possibile i prodotti con smaltimento, uso anche la stessa cipria di Kiko, sempre questa qui, dell'area di Infusion, per fare un pochino di ombreggiatura, vi tengo, vi saluta, e proprio leggera, leggera, tengo il pennello lontano, con l'impugnatura lontano dalle setole, e sfumo leggermente, con movimenti leggermente rotatori, come mascara, ho messo in smaltimento due prodotti, non nel progetto Ventura in meno, ma ho questi due pezzi forti, allora questo è il Mascara Effet Push Up Volume Glamour di Bourjois, che non mi dispiace, e questo invece, che non piace, come al solito, quelli che piacciono a tutti, a me non piacciono, quello di Tarte, il Lights Camera Lashes, che piace appunto a tutti, io lo odio, perché per me ha un effetto troppo naturale, quindi, di solito lo uso, siccome pettina molto bene, di solito lo uso, appunto, per dare una pettinata alle ciglia, che ho già, inspessito e incurvato, con una mascara più volumizzante, che in questo caso, è questo qui di Bourjois, quindi vado a mettere questo qui, e poi pettino le ciglia con quell'altro. Per completare i look occhi, uso un illuminante, che è un illuminante viso, che è questo qui, che è Rodeo Drive di Ofra, anche questo è smaltimento, nel progetto 21 in meno, e io, come sapete, non amo i... no, non lo sapete, non lo potete sapere, ma io non amo gli illuminanti troppo forti, per cui questo per me è un pochino esagerato sulle guance, per cui lo uso spesso sugli occhi, dove invece mi piace, insomma, un brilluccio più forte, però, per smaltirlo, lo sto usando in questa maniera, lo prendo con la spugnetta, sempre quella che ho usato per il fondotinta, lo tampono, questo è un trucchetto che mi piace usare spesso, quello di tamponare i prodotti in modo da renderli più leggeri, e poi lo metto così, in questa maniera, il prodotto è sicuramente, il prodotto è sicuramente, più portabile, e io non mi sento una palla stroboscopica, perché se vedete, sulla mano è troppo, invece così riesco a dosarlo sul viso. Siamo finalmente arrivati alle labbra, alla fine di questo video, e voi non ci crederete, ma io ho messo in smaltimento un rossetto, e in particolare, chi mi conosce, non ci crederà ancora di meno, perché ho messo in smaltimento Diva di MAC, che è uno dei miei rossetti preferiti di sempre, e infatti si vede, e lo voglio finire, voglio avere questa soddisfazione di finire un rossetto di MAC che mi piace tanto, per contornare le labbra uso sempre una matita di MAC, questa è Brick, che è leggermente chiara, per Diva, però mi aiuta un pochino a smorzarlo, adesso vedrete che Diva è un colore impegnativo. bene, questo è il look finito, dei prodotti in smaltimento, sia con il progetto 21 in meno che stiamo facendo su Instagram, sia quelli che ho proprio in smaltimento, perché li voglio finire, spero che vi piaccia, adesso se riesco, vi metto anche una clip alla luce naturale, anche se fuori piove, quindi non è che sia sta grande luce, però vabbè, ci proviamo. Al solito il bagno è il posto in cui c'è la luce naturale migliore, quindi vi beccate clip del bagno per vedere il trucco. Se il video vi è piaciuto mettete like e seguite il canale, e come al solito fatemi sapere nei commenti anche voi qualcosa sul tema del giorno, in particolare se avete un progetto in atto, un progetto smaltimento e come vi comportate con alcuni prodotti che avete, se tendete ad accumularli e quindi doverli smaltire oppure se siete bravi e bravi e li tenete, insomma, vi tenete il giusto numero di prodotti. Ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!